La notizia di oggi è l'interessamento forte del Torino per Valentino Lazaro, un interessamento che dovrebbe portare a un prestito con diritto di riscatto per l'esterno austriaco in uscita ovviamente dall'Inter, quindi si chiuderebbe un altro colpo in uscita per i nazuri che stanno proprio faticando in questo senso dopo un inizio di mercato molto scoppiettante in cui entro giugno già hanno portato a casa 5 elementi per la rosa di Inzaghi adesso l'Inter in maniera un po' farraginosa sta provando a mettere a segno queste uscite e Lazaro dovrebbe trovare posto nel Torino, quel Torino che ricordiamo pochi giorni fa ha negato in qualche modo direttamente o indirettamente Bremer ai nerazzurri detto questo dunque Lazaro non dovrebbe scendere in campo anzi a questo punto certamente non scenderà in campo contro il Lione l'amichevole di Cesena di sabato sera ore 20 e 30 ecco a proposito, oggi nella sgambata contro la Pro Sesto gara finita 6 a 1 con doppietta tra gli altri di Lautaro Martinez dicevamo in questa partita, in questa sgambata ha trovato spazio soprattutto Mila Skriner Skriner come al solito ancora al centro delle voci di mercato lo slovacco però reduce dal lungo infortunio patito in giugno con la sua nazionale nella prima gara purtroppo in cui era sceso in campo come capitano della Slovacchia è tornato in campo oggi e ha trovato addirittura anche il gol proprio il sigillo finale del 6 a 1 dell'Inter un gol che per alcuni è un po' un segno del destino lui non ha mai negato la volontà di restare a Milano lungi da me andare a sventire delle opportunità o delle notizie di altri colleghi posso dirvi quello che mi risulta e mi risulta che nelle ultime ore non si sia mosso nulla per lui assolutamente zero zero novità per Skriner che sono buone novità per Inzaghi perché più tempo passa, almeno questo è quello che ci raccontano e più aumentano le chance di continuare a vedere lo slovacco vestire la maglia nera azzurra sarà certamente così, io sinceramente non ci metto la mano sul fuoco anzi diffido spesso dalle narrazioni di calciomercato troppo semplici e troppo lineari non a caso dubitavo della permanenza del rinnovo di Peric quando tutti e tutto sembrava portare alla firma del croato con l'Inter dubitavo dell'arrivo di Dybala nonostante anche qui le fonti si dicevano molto ottimiste ed era veramente vicino il matrimonio però a un certo punto come subodorato qualcosa che non mi tornava a livello epidermico e la stessa cosa devo dire che l'ho sempre avvertita anche per Skriner questo dare per scontato il suo addio non sempre mi ha convinto proprio per la ferrea volontà del difensore slovacco di restare a Milano o quantomeno di non forzare assolutamente la mano per andare via peraltro sarebbe anche da smentire ecco qui sì una situazione un po' stagliata da più parti ossia che Skriner sarebbe sul mercato anche per il fatto di essere in scadenza in realtà questo è un falso problema almeno per quanto ne so io che posso anche sbagliarmi ma da quello che so io appunto Skriner non avrebbe e non ha nessun problema a firmare il contratto con l'Inter qualora restassi a Milano e non dovesse andare al Paris Saint Germain, al Chelsea o qualunque altro club e questo chiaramente mette l'Inter anche in posizione di forza e mette l'Inter in grado nella posizione di chiedere appunto e di non scendere dalla cifra richiesta 70-80 milioni insomma quello che sono non è proprio diverso, non è proprio la stessa cosa 70-80 perché si parla di 70-80 come fosse la stessa cosa sì tra i 70 e gli 80, beh sono 10 milioni anche qui denota un qualcosa che in realtà non si conosce fino in fondo e forse si fa un po' a gara a chi conosce di più io mi sottraggo volentieri da questa gara perché come sapete non faccio calciomercato avvolto delle notizie di mercato di rimando e ovviamente dalla redazione per la quale lavoro FC Interneuso oppure di prima mano proprio quando mi arrivano senza nessun baratto, senza nessuna triangolazione ma per fonti diretti o direttissime per Skriniar mi fido del lavoro che facciavano in redazione e quelli che ne sanno più di me appunto mi raccontano questo che vi sto dicendo è chiaro che cresce l'ottimismo per la permanenza di Skriniar anche perché si avvicina anche l'inizio del campionato ma io francamente non ci metto la mano sul fuoco la sua permanenza perché sappiamo come funziona il mercato e se domani il Paris Saint Germain o chi per esso si sveglia e mette sul tavolo 70 75 milioni, insomma la cifra che sta bene all'Inter secondo me Skriniar parte come è partito Lukaku l'anno scorso come è partito Achimi e come sono partiti tanti altri giocatori ma di qualunque club, ecco questa è un'altra cosa qualunque club oggi in Italia ma non solo in Italia diciamo soprattutto in Italia non ha la forza economica, finanziaria di resistere a un tipo di avanzo spropositato comunque congruo faccio fatica a trovare un club che possa dire sì questo giocatore è blindato 100% anche se arriva il Newcastle con 120 milioni con l'accordo del giocatore resta io francamente quindi tutta questa narrazione su Skriniar la condivido in parte perché è un discorso che vale per tutti se poi i giocatori dell'Inter sono più richiesti rispetto a quelli di altri club italiani questo vale sia nel lato negativo che l'Inter ha bisogno evidentemente di fare più che l'Inter, lo suning, di rimando l'Inter ha bisogno di incassare ma anche il lato positivo ovvero che i profili della Rosa di Inzaghi che fanno cola anche ai massimi club europei detto questo oltre a Skriniar è sceso in campo oggi anche Gosens anche per lui i minuti importanti oggi presumibilmente i minuti importanti li metterà nelle gambe anche contro Lione e anche qui c'è da sfavare un altro mito Gosens rotto, Gosens bitone acquisto sbagliato flop, non è quello dell'Atalanta ora premesso che sollevare le dubbi è legittimo e per alcuni versi anche doveroso almeno per quanto mi riguarda per la fascia sinistra perché avrei gradito e lo ripeto un altro innesto sugli esterni ma di piede mancino così lo vedo un po' troppo sbilanciata la Rosa sulla destra detto questo l'Inter non è perfetta ma nessuna squadra di Serie A è perfetta l'anno scorso il Milan ha vinto lo Scudetto nonostante molte imperfezioni della Rosa quindi si va a sopperire a queste imperfezioni con il lavoro quotidiano e magari andare a trovare delle risorse anche interne delle quali non ne rimango nemmeno consapevole vi ricorderete Mertens che diventa prima punta dopo il problema che aveva avuto l'attaccante a disposizione di Sarri diventa una splendida prima punta quindi anche questa narrazione su Gosens come se qualsiasi cosa facesse l'Inter dovesse esserci per forza anche un aspetto negativo si va a intersecare anche in questo discorso dell'esterno tedesco non è una novità ormai ci siamo abituati è l'Inter tristismo purtroppo fa proseliti molto di più rispetto ad altre situazioni negative di altre squadre si è parlato per giorni e giorni di allarme Gosens poi abbiamo visto Pogba che probabilmente alla meglio salterà due mesi di campionato o meglio due mesi da oggi quindi non di campionato Oricchi praticamente non si ancora allena da quello che sono le ultime in maniera totale con la squadra insomma ognuno ha i suoi problemi però quelle dell'Inter sono sempre un po' più problemi degli altri chiudo parlando della situazione e delle parole molto interessanti a mio modo di vedere di Matthijs De Ligt il centrale ulandese ha ricordato come non si sia trovato per nulla bene alla Juventus è d'incanto per gran parte dei media nostrani De Ligt da grande difensore da grandissimo colpo perché noi ci ricordiamo i titoli di quei giorni dell'acquisto della Juventus per il difensore olandese ma anche successivamente ecco da top difensore è diventato in poco tempo un pippone un bidone uno che spiagge uno che sputa sul piatto in cui ha mangiato io non mi trovo d'accordo su queste non mi trovo assolutamente d'accordo su queste sintesi che non sono figlie di un'analisi fondamentalmente perché è interessante quello che ha detto De Ligt perché ci dà lo spunto di guardare al calcio anche in maniera un po' più ampia e di capire che comunque resta un gioco di squadra che un calcio non è fatto che una squadra non è fatta dalla somma di 11 elementi ma è un ingranaggio molto più complesso che un giocatore può fare benissimo in una realtà e molto meno bene in un'altra ma non per questo vanno date delle etichette quindi quando si parla di giocatore che lì ha fatto bene che è super che ovunque andrà non è così bisogna che ci sia l'humus adatto bisogna che ci sia il feeling con l'ambiente con lo spogliatoio e soprattutto con l'allenatore in chiave di indicazioni soprattutto tattiche ed è lì dove De Ligt va a parlare va ad analizzare entra proprio nell'argomento tattico e per quello diventa interessante non sono parole al vento non sono dichiarazioni poi possono essere anche le sbagliate però quantomeno c'è il terreno fertile per aprire un dibattito cosa che purtroppo non riesce quando si fanno dei discorsi superficiali appunto che sfociano nella demagogia nel populismo e nel luogo comune lì proprio non c'è mai terreno di discussione ed è solo tempo perso un esercizio che secondo me deve stare più lontano possibile anche dal giornalismo anche da quello sportivo soprattutto da quello calcistico perché veramente di superficialità e di banalità se ne leggono fin troppe e questa storia di De Ligt secondo me ci dà anche l'assist per far capire che non sempre nel calcio 2 più 2 fa 4 ma vanno viste le contingenze e soprattutto occorre competenza poi per esprimere un giudizio che sia un giudizio a 360 gradi che non si basa solo sull'umore sul sentimento sulla passione o su quel momento in particolare che può essere ingannevole un saluto e quindi